lei ha classe e la classe non è acqua ma che c'entra proprio l'acqua certo c'è consistente non è ma la classe innanzitutto in latino significò la flotta quindi la flotta non è l'acqua su cui si sorregge e è ben di più perché si dice la classe di scuola perché i banchi soprattutto una volta erano belli ordinati come le navi nella flotta in questo senso quindi si intende dire la classe non è soltanto l'acqua ma la flotta che ci galleggia sopra